Cos'è la medicina ayurvedica? La medicina ayurvedica è un sistema medico, considerato tra i più antichi, originario della zona indiana, che si interessa ad aspetti di prevenzione e cura col fine di allungare e migliorare la vita dell'essere umano in armonia con la natura. Gli scopi della ayurvedica si possono riassumere in prevenzione di malattie, prendersi cura e mantenere un buono stato di salute e mirare alla longevità. L'ayurveda è una scienza, non solo del benessere fisico, ma anche filosofia e scienza dello spirito. Questo concetto si basa sulla costante ricerca di equilibrio delle tre energie vitali, dette dosha, che costituiscono il corpo dette vata, pitta e kafa. Secondo la ayurvedica, l'uomo si compone di elementi materiali ed antimateriali. Di conseguenza, il benessere generale dipende dall'equilibrio di queste due sfere. Le terapie comprendono metodi naturali che vanno dal massaggio ritmico, alla balneoterapia, alla pedagogia curativa e alle terapie artistiche. Se si è alla ricerca di elementi complementari di conoscenza, parallelamente alla tradizionale medicina, è utile rivolgersi ad uno specialista di medicina ayurvedica, anche solo per conoscere pratiche quotidiane individuali, per ritrovare l'armonia per connettersi con la propria spiritualità. A maggior ragione si consiglia di interessarsi a questa scienza olistica per squilibri psicosomatici oppure Morbo di Parkinson Ciclo mestruale doloroso Demenza senile Acne Colon irritabile I sintomi per cui un paziente può valutare di rivolgersi ad un esperto ayurveda sono Asma Mal di testa Ansia Insonnia Tosse e labbra secche Urine scure Pressione alta e colesterolo alto Stai cercando l'ayurveda specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di Uma Innovation Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video Iscriviti a questo canale e condividi Questa è un'idea di Uma Innovation Iscriviti a questo canale